buongiorno fregolini e fregoline allora questo come leggete dal titolo è un blog un po con tante notizie perché vi avevo detto che nei blog precedenti avevo delle notizie bellissime che mi sono successe in questi due mesi che adesso vi dirò allora dato che sono cose diciamo lunghe da dire preferisco dividere due blog e sperando che non parlo così tanto e che i blog che durano meno ma non è mai possibile quando io registro un blog per cui questo qua è un blog quasi un po chiacchierino e un po blog diciamo un miscuglio per cui vi devo dire in breve le prime notizie le prime decisioni e poi il secondo blog che ovviamente vedete vi dirò la diciamo la notizia più molto più bella di queste che adesso vi dirò allora come leggete dal titolo ho messo questo titolo perché non dovete mai smettere di sognare come dice una canzone e perché se volete qualcosa se volete ottenere qualcosa i desideri cose che voi volete alla fine si avverano piano piano ovviamente con tanti sacrifici io adesso sto facendo tanti tanti sacrifici per appunto impegnarmi su questa cosa che è successa che ve la dirò ovviamente nel secondo blog per cui vi lascio un po così e non vi voglio spoilerare niente allora inizio a dirvi che quando ho fatto i vaccini i vaccini non so perché mi hanno portato fortuna e vi spiego allora il primo vaccino è successo che ho trovato quello che volevo e la mia vita cambierà per cui chi mi segue da un bel po' sa che cosa stavo facendo e che cosa volevo per cui non vi spoglierò niente per cui sul primo vaccino è stata una cosa mai successa in vita mia così in fretta poi ho fatto il secondo vaccino e lì è successo un'altra cosa praticamente dove lavoro io che ormai sono quasi sei mesi che lavoro diciamo nelle parti di laglio sul lago di como vicino alla villa di clunei io mi sposto più o meno in quelle parti lì lavoro lì e dopo tanti mesi mi hanno assunto col contratto indeterminato vi dico questo perché io ci ho messo più di dieci anni per trovare lavoro per cercare di farmi assumere indeterminato e non è mai così semplice ok che è un lavoro a chiamata per cui diciamo che mi chiamano se hanno bisogno io vado però per farvi capire io sto lavorando quattro giorni a settimana alla mattina invece che sono fissi e per cui certe volte è a chiamata ma certe volte sono giorni fissi invece appunto sempre sul fatto del vaccino che mi ha portato fortuna nel blog avevo spoilerato che dovevo fare un colloquio di lavoro che era un'altra ditta dove praticamente ho trovato un'altra ditta sempre su sul mio ambito in poche parole e grazie al vaccino mi hanno praticamente fatto un altro contratto su sempre su un'altra ditta e non su quella che sto lavorando io dove praticamente lavori tutti i giorni per diciamo quattro ore e mezza alla sera per cui calcolate che io faccio dalle 7 fino alle 11 e mezza torno a casa tardi che per me è luna per cui arriverò a casa tardi a luna ovviamente devo mangiare e poi vado a letto dormire il giorno dopo mi sveglio alle 7 del mattino perché ho un altro lavoro e in poche parole grazie a questo vaccino sono stata assunta e in più ho trovato un altro lavoro che mi può permettere di lavorare più di otto ore infatti io al giorno faccio più di otto ore tranne al pomeriggio che al pomeriggio quelle due tre ore sono libera e vi dico questo anche grazie al vaccino vi dico questo perché in questi mesi sto facendo fatica a registrare pubblicare e montare i video perché non ho un giorno c'è sì c'è un giorno ma è il sabato la domenica che gli unici giorni che io sono a casa di riposo non tutti perché ogni tanto al sabato lavoro per cui dipende e per me sta diventando molto difficile fare cioè praticamente impegnarmi su youtube ma ce la sto mettendo tutta e infatti sempre su questo argomento ho fatto delle decisioni ho visto in questi mesetti in cui io sto mi sto facendo diciamo questo su youtube e in più dato che il risultato su youtube è bassissimo perché voi dovete capire che quando io registro un video monto un video io adesso in queste ore che sto facendo di lavoro calcolate che per me è molto difficile per cui io mi metto anche a luna di notte a montare video per far sì che vanno su il canale all'ora esatta e il giorno giusto poi anche alla mattina alle 7 mi metto e monto i video per cui calcolate che per me è difficile però appunto ci sto mettendo tanto di impegno ci sto mettendo il possibile per caricare il video e montarvi i video il video quando usciranno nei giorni di martedì giovedì e sabato dato che io pubblico sempre tre video settimana in questi mesi inizia di essere molto difficile perché non ho tempo e ovviamente per me fare un video a cavozo come ho fatto con halloween che non sono riuscita a fare un video come volevo io alla fine mi è arrivato cioè mi è uscito un altro video diverso che non volevo quello ma appunto vabbè in poche parole ho notato che anche se mi sono fatta il cosiddetto per fare pubblicare il video lo stesso giorno alla stessa ora che certe volte non riuscivo neanche ho visto che la maggior parte sono 20 persone che guardano i video quando io pubblico cioè passano quelle quattro ore quando io ho pubblicato video and all o alla sera alle 8 o alle 2 passano sempre quelle quattro ore e vedo sempre solo 20 persone che guardano i miei video io non pretendo di arrivare a 200 visualizzazioni in quattro ore però voglio un bel po' di visualizzazioni e non 20 persone che guardano i miei video dopo che mi sono fatta diciamo tanto per pubblicare e montarlo a quel giorno a quell'ora per cui per me è difficile e dato che i risultati sono bassi che non mi piacciono perché non mi piace cercare di essere una che si impegna a queste cose poi le persone sono zero cioè non li guardano non so perché se non vi piacciono i video che faccio non lo so comunque io vi dico in poche parole che i giorni e le ore cioè non le ore, di più i giorni vi dico che i giorni che in teoria sono martedì, giovedì e sabato non saranno più martedì, giovedì e sabato ma saranno meno giorni può essere che saranno due giorni a settimana può essere che pubblicherò un giorno a settimana video dipende tutto dall'impegno che ho e se riesco a montare, a registrare e pubblicare quel giorno e quell'ora il video per cui io vi voglio già avvisare su questa cosa poi se vedo miglioramenti che le persone davvero iniziano a visualizzare il video di più sui 200 e passa, allora sì che cercherò poi di fare tre video a settimana ma così sinceramente non mi piace ricevere solo 20 persone che poi grazie mille per quelli che ci sono sempre che quelli che guardano sempre i miei video però preferirei davvero che l'impegno che ci metto voglio che sono molto di più le persone che guardano i miei video tutto qua, per cui voglio già avvisarvi di questa cosa che la pubblicazione di video non sarà più tre giorni a settimana ma saranno meno infatti o possono essere due giorni o possono essere un giorno a settimana però io voglio già avvisarvi per cui dipende tutto dall'impegno io non voglio stare lì a stressarmi perché a me piace fare quello che sto facendo i video eccetera ma così sinceramente cioè rimango delusa perché ce la sto mettendo tanto e da 7 anni, quasi 8 anni che sono su YouTube e non ho risultati eccellenti ma poco per cui preferirei davvero non stare lì a farmi il mazzo perché tanto alla fine YouTube non è che paga come lo stipendio che io sto guadagnando cioè si darà qualcosina ma non mi mantiene per cui io lo faccio per divertimento perché se lo facevo per i soldi vi assicuro che non ero ancora su YouTube per cui io la penso così queste sono le due cose che mi sono successe in questi mesi che sono appunto il fatto del lavoro ok che forse a certi non gli interessa ma era riferito al canale perché se io non ce la faccio con i video è per il fatto dei lavori infatti sono assente anche su Instagram su Instagram non sto pubblicando continuamente storie le foto ne sto facendo poche per cui una volta a settimana massimo due volte le sto pubblicando ma non sempre per il semplice fatto che sto lavorando tanto sto facendo tanti straordinari in questi giorni e allora diciamo che sono molto assente su Instagram però se ora non mi seguite su Instagram seguitemi perché lì vedete tutto poi voglio farvi vedere una cosa che forse è un po' di spoiler ve lo faccio comunque dall'anno prossimo ci sarà un cambiamento enorme voi lo scoprirete ma credo che adesso vi farò vedere qualcosina allora questa è la cartella dove in tutti questi due anni in poche parole stiamo cercando casa voglio farvi vedere quanti bigliettini mi hanno dato allora questa è la cartella dove abbiamo siamo andati a vedere una casa che alla fine non ci piaceva pensavo che era bella ma non era adatta a noi per cui adesso vi faccio vedere c'è guardate quanti cartellini ne ho anche altri di altre agenzie che adesso non mi ricordo dove ho messe tutte quelle che abbiamo visto le case ce ne ho un altro qui altri sparsi tutte le agenzie dove noi siamo andati a vedere le case e stiamo ancora andando a vedere per cui cioè questa là è la casa in cui siamo andati a vederla ve lo faccio vedere così veloce perché in teoria non so se si può fare vedere queste cose e invece poi mi ha lasciato i bigliettini dove ecco mi cade tutto questo è un bigliettino dove Mimì ti spiega le case in quale puoi andare a vedere questo è quello che hanno loro le case in vendita in poche parole nel prossimo video che sarà giovedì vi racconterò quello la seconda notizia che credo che si è capita di questa cosa per cui non ve lo dico adesso perché questo video voglio che sia un'altra cosa comunque questa è la prima cartella che ho ricevuto quando siamo andati a vedere la casa adesso ce ne sono altre che siamo andati a vedere e è una bella notizia per cui ve la dirò al prossimo vlog non vi dico altro vabbè detto questo adesso vi lascio vi faccio vedere un po' di cosine su quello che faccio oggi e a niente spero che questo vlog vi piaccia perché io stasera vado a lavorare e spero che questo video lo vedete martedì cioè oggi ah non credo non credo vediamo quando riesco a pubblicarla non credo Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.